Ci troviamo nella salita Matteotti. Qualche mese fa lei ha realizzato con noi con TCS un SOS proprio per dire che qui occorreva una segnaletica per il parcheggio dei disabili. Lei infatti ha un figlio disabile per andare al cinema, a parte che lei abita qui nei paraggi. Insomma, per qualsiasi motivo occorreva questo parcheggio. Finalmente è stato realizzato. Sì, devo ringraziare l'assessore Giarratano per quello che ha fatto e lo ringrazio di vero cuore. Mio figlio Gabriele purtroppo oggi non c'è perché è a scuola, ma lo ringrazia anche lui. Gabriele Boccia ringrazia l'assessore per tutto quello che hanno fatto e per avermi fatto trovare questo parcheggio per i diversamente abili quasi immediatamente. C'è però da dire una cosa. Siamo contenti che l'assessore finalmente si è mosso. Siamo contenti che tutto è sistemato, però ancora una volta bisogna segnalare l'inciviltà dei cittadini perché stamattina è stato realizzato il parcheggio che è già stato occupato. Occupato da persone che secondo me sono anche delle persone che non si rendono conto che è un parcheggio per diversamente abile e non devono posseggiare. Purtroppo c'è da dire questo che è l'inciviltà, l'inciviltà del cittadino purtroppo. Quindi speriamo che questa sia l'ultima volta che vediamo il parcheggio occupato abusivamente.